buongiorno a tutti buon venerdì io sono angela e tu sei sul mio canale tutto dal web quella tra marie de filippi e luciana letizietto lo sappiamo è un'amicizia nata proprio negli studi televisivi la conduttrice mediaset infatti ha spesso invitato luciana nei suoi programmi mediaset tra cui c'è posta per te e anche amici negli anni infatti le due si sono legate molto e quindi sono diventate amiche e proprio adesso luciana letizietto che è andata via dalla rai è rientrata fa parte proprio di tu sì che vale se come giudice in un'intervista rilasciata al settimanale oggi la letizietto ha raccontato come maria de filippi al di fuori proprio dei suoi programmi televisivi ossia di persona e nel privato ecco cosa racconta luciana abbiamo sempre avuto un bel rapporto devo dire la verità maria è sempre lei che incoraggia me le parole più frequenti che mi dice sono cretina mi vuole bene così e in fondo ha ragione se mi agito se ho un'insicurezza le sdrammatizza in un attimo cretina questo il suo modo di sdrammatizzare e spronarmi poi parla dell'affido e dice è stata anche lei lì a darmi sicurezza a parlarmene io temevo che essere una persona conosciuta avrebbe reso il cammino nei nostri figli più difficile lei mi parlo più volte della sua esperienza con Gabriele e con grande serenità mi disse stai tranquilla proteggerà i tuoi figli andrà tutto bene così è stato è una persona che sa infonderti tranquillità poi infine concludo dicendo maria è una persona da maneggiare con cura perché sì c'è la donna forte l'imprenditrice che fa girare una grande macchina con centinaia di lavori però poi c'è anche la donna che non si rivela facilmente che ha pudore dei suoi sentimenti che ha delle timidezze tutti noi abbiamo un pianeta interiore da trattare con cura